Ciao ragazzi e benvenuti alla mia rubrica di video tutorial di giochi da tavolo. Se è la prima volta che vedete i miei video vi consiglio di iscrivervi al canale per scoprire insieme nuovi regolamenti e iniziare subito a giocare. Oggi parliamo di Progetto Gaia e cercheremo di rispondere alla fatidica domanda è davvero meglio di Terra Mistica? Alla fine del video non perdetevi i pro e i contro e le mie impressioni sul gioco. Progetto Gaia è un titolo di Jens Droegemüller e Helge Östertag da 1 a 4 giocatori con una durata indicativa massima di 150 minuti. L'edizione italiana è curata da Cranio Creations. Vediamo come si gioca! Componete la mappa utilizzando le tessere settore spazio come mostrato dal regolamento. Questa è la configurazione per quattro giocatori. Accanto al tabellone trovano posto la plancia punteggio con 6 tessere punteggio di round e 2 tessere punteggio finale scelte a caso e la plancia ricerca. Su quest'ultima posizionate in alto 6 tessere tecnologia avanzata scelte a caso. Poi dividete le tessere tecnologia di base in 9 pile a seconda della tipologia e posizionatele casualmente negli spazi in basso. Una tessera federazione scelta a caso va posizionata a livello 5 dell'area di ricerca terraformazione. Le altre aree di ricerca sono navigazione, intelligenza artificiale, progetto Gaia, economia e scienza. Create una riserva con i segnalini azione, i segnalini pianeti Gaia, il pianeta perduto, i segnalini potere, i segnalini registro e i CIQ. Scegliete casualmente un numero di tessere bonus pari al numero di giocatori più 3. Solo queste verranno utilizzate nella partita in corso. Ogni giocatore sceglie una fazione che avrà un'abilità speciale e posiziona sulla sua plancia tutti gli edifici sulle rispettive, sagome, colonie minerarie, stazioni commerciali, istituto planetario, centri ricerca e accademie. Se è presente il simbolo CIQ si riceve un CIQ. Le unità Gaiaformer si tengono al di fuori della plancia. I marcatori crediti, minerali e conoscenza vanno sulle posizioni di partenza indicate in plancia. Ogni volta che si spenderanno o acquisiranno questi elementi si muoveranno gli indicatori per tenerne traccia. Nelle aree del ciclo del potere si posizionano tanti segnalini potere quanto indicato. Tenete i cubetti del vostro colore accanto alla plancia e posizionatene due sul livello 0 dei due tracciati della plancia punteggio. Il segnalino punti vittoria parte dal 10. I segnalini ricerca partono dallo 0 di tutte le aree di ricerca. Alcune fazioni potrebbero necessitare di oggetti particolari o partire dal livello 1 di qualche area di ricerca, eseguite il setup specifico di ogni razza. Quando i segnalini delle aree di ricerca entrano in uno spazio con un simbolo mano, questo indica la rendita che si otterrà ad ogni inizio round a partire dal round successivo. Se entrano in uno spazio con un'icona con una stella in basso a sinistra, si tratta di un bonus una tantum da ricevere subito. Le icone senza mano né stella indicano invece un aggiornamento del proprio livello in una specifica area. Quando l'area progetto Gaia indica di ricevere un Gaiaformer, lo si rende disponibile posizionandolo sulla propria plancia. Se giocate in uno o due giocatori, prendete dei cubetti di un colore non in gioco per indicare sulla plancia punteggio un giocatore neutrale che concorrerà alla divisione dei punteggi finali. I cubetti vanno posizionati al livello indicato dalle tessere punteggio finale. Ad inizio partita si sceglie casualmente l'ordine di turno e se ne tiene traccia con i cubetti dei giocatori sulla carta ordine di turno. Cominciando dal primo giocatore, ognuno posiziona gratuitamente una colonia mineraria su un pianeta a scelta del tipo preferito della propria fazione. Poi, in ordine di turno inverso, ognuno ne posiziona una seconda allo stesso modo. Notate che ogni volta che posizionerete una struttura sulla mappa, sbloccherete una rendita aggiuntiva per i round successivi. Sempre a partire dall'ultimo giocatore, ognuno sceglie una tessera bonus e la tiene accanto a sé. La partita si svolge in 6 round, ognuno diviso nelle seguenti fasi. Rendita, fase Gaia, azioni, gestione. Ad inizio di ogni round, compreso il primo, i giocatori ricevono la rendita di quanto indicato con il simbolo mano sulla propria plancia, sulle proprie tessere tecnologia, sulla tessera bonus o sui livelli raggiunti sulla plancia ricerca. Se una rendita o qualsiasi altra azione nel corso del gioco presenta questo simbolo, potete caricare potere. Il numero indicato sono i movimenti che i segnalini potere faranno tra le tre aree. I movimenti si applicano sempre ai segnalini presenti nell'area di valore più basso e si usano per spostarli nell'area di valore immediatamente superiore. Ad esempio se ottengo 4 punti potere, posso usare 1, 2 e poi 3, 4 movimenti in questo modo. I segnalini nell'area 3 non si possono più muovere, andranno spesi e quindi ritrasferiti nell'area 1, solo usando un'azione che costa punti potere come vedremo in seguito. Invece se trovate questo simbolo, indica che potete ottenere un nuovo segnalino potere dalla riserva e aggiungerlo all'area di valore 1. Inoltre vi anticipo che in qualsiasi momento del vostro turno, e non conta come azione, potete scartare definitivamente uno o più segnalini dall'area potere 2 per trasferirne altrettanti dall'area 2 all'area 3, pronti per essere spesi. Potete ricevere le vostre rendite nell'ordine che preferite, ma dovete ricevere tutta una rendita completa prima di passare a incassarne un'altra da un'altra fonte. Dopo la rendita c'è la fase Gaia, in cui se ci sono segnalini potere nell'area Gaia, congelati lì in un turno precedente, vengono fatti tornare nell'area 1 del ciclo del potere. Inoltre, se nel turno precedente è stato posizionato un Gaiaformer su un pianeta Transdim, aggiungete un segnalino Gaia sotto il Gaiaformer, per indicare che il pianeta è diventato un pianeta Gaia. L'unità Gaiaformer resta sul pianeta. Segue la fase azioni, in cui, in ordine di turno, ognuno svolge un'azione, poi passa la mano al giocatore successivo e così via, finché tutti passeranno e il round avrà termine. Un'azione si può scegliere anche più volte durante un round. Le azioni possibili sono le seguenti. Colonizzare. Iniziare un progetto Gaia. Migliorare una struttura. Formare una federazione. Avanzare in un'area di ricerca. Usare azioni potere, ossia IQ. Azioni speciali. Passare. Colonizzare significa posizionare una colonia mineraria su un pianeta libero a portata di navigazione. La portata di navigazione è indicata dal livello sull'area di ricerca navigazione. Ad inizio partita la navigazione è 1 e si possono colonizzare solo pianeti adiacenti. Salendo sul tracciato, la portata diventerà 2, 3, 4 caselle spazio. Per calcolare la distanza, contate sempre il percorso più breve, anche superando pianeti o edifici avversari. Mentre svolgete l'azione colonizzare, potete spendere CAQ per aumentare temporaneamente la vostra portata di più 2 spazi per ogni CAQ speso. Se il pianeta scelto è del tipo preferito della vostra fazione, potete piazzarci sopra una colonia mineraria, pagando i costi di costruzione di 2 crediti e un minerale. Se il pianeta è di tipo diverso, si controlla la tabella sulla plancia per capire a quanti step di terraformazione di distanza è il pianeta prescelto. Ad esempio per i Geoden, colonizzare un pianeta giallo desertico o un pianeta rosso ossidante costa uno step di terraformazione. Ogni step ha un costo in base al livello sull'area di ricerca terraformazione. Ad inizio partita ogni step costa 3 minerali, poi il costo si potrà abbassare fino a uno. Quindi se volessero colonizzare questo pianeta, i Geoden pagherebbero 3 minerali per terraformare il pianeta, poi 2 crediti e un minerale per posizionare la colonia mineraria. L'azione colonizzazione va svolta per intero fino alla costruzione della colonia mineraria. Non è possibile, come in terra mistica, terraformare in parte un pianeta e costruirci sopra in seguito. Ci sono anche due tipologie di pianeti particolari. I pianeti Gaia, quelli verdi, si possono colonizzare spendendo un CIQ invece che pagare costi di terraformazione. I pianeti Transdim, quelli viola, vanno prima trasformati in pianeti Gaia con l'azione che vedremo in seguito. In particolare su questi pianeti, verrà inviata un'unità Gaia-Former e saranno trasformati in pianeti Gaia. Quando vi trovate in una situazione del genere, solo la vostra fazione può colonizzare quel pianeta. Per farlo non deve pagare niente, ma solo ritirare il proprio Gaia-Former e pagare i costi di costruzione della colonia mineraria. Iniziare un progetto Gaia significa scegliere un pianeta Transdim libero a portata di navigazione e posizionarci sopra un'unità Gaia-Former presa dalla propria plancia. Vi ricordo che le unità Gaia-Former partono fuori dalla plancia. Per renderle disponibili bisognerà avanzare nell'area di ricerca Progetto Gaia. Iniziare un Progetto Gaia ha un costo in potere indicato dal vostro livello nell'area di ricerca Progetto Gaia. Al primo livello il costo è a 6 segnalini potere, poi potrà scendere fino a 3. Questi segnalini vanno prelevati da qualsiasi area potere e spostati nell'area Gaia. Resteranno lì congelati fino alla fase Gaia all'inizio del round successivo, quando torneranno nell'area 1. Non potete iniziare un nuovo Progetto Gaia finché non riportate sulla plancia almeno un Gaia-Former. Riassumendo, per colonizzare un pianeta Transdim e portare a termine un Progetto Gaia servono quindi due round. Nel primo scegliete un pianeta Transdim, pagate il costo in potere e posizionate un Gaia-Former. All'inizio del round successivo tornano disponibili i segnalini potere e il pianeta Transdim diventa Gaia. A partire da quel momento, quando volete, potete colonizzare il pianeta senza costi di terraformazione, riportando in plancia il Gaia-Former. Migliorare una struttura significa sostituire una struttura sulla mappa con una di livello superiore. Seguendo le frecce sulla plancia vedrete che i miglioramenti possibili sono trasformare una colonia mineraria in una stazione commerciale. Una stazione commerciale in un istituto planetario oppure in un centro ricerca. Infine, sostituire un centro ricerca con un'accademia. Solo le colonie minerarie si possono piazzare su pianeti vuoti. Le altre strutture sono miglioramenti di strutture già piazzate. Quando rimuovete una struttura dalla mappa per migliorarla, la riposizionate sulla rispettiva sagoma, riempiendo gli spazi da destra verso sinistra. Quando posizionate una struttura invece, la prelevate a partire dallo spazio più a sinistra. Fanno eccezione le accademie, potete scegliere quale costruire prima. Il costo da pagare è quello della nuova struttura che state costruendo e che è indicato in plancia. Le stazioni commerciali hanno un diverso costo in crediti in base alla loro posizione. Costano 3 crediti e 2 minerali se è presente almeno una struttura avversaria nel vicinato, ovvero entro due caselle di distanza. Costano invece 6 crediti e 2 minerali se non ci sono avversari nel vicinato. Quando costruite un centro ricerca o un'accademia, potete immediatamente prelevare una tessera tecnologia base o avanzata. Tra le tessere base, se scegliete una tessera della fila superiore, ottenete immediatamente un avanzamento sul rispettivo tracciato ricerca. Se ne prelevate una dalla fila inferiore, otterrete un avanzamento su un tracciato a scelta. Le tessere tecnologia si tengono accanto alla plancia e danno rendite, azioni speciali o bonus. Non si possono mai ottenere due tessere identiche. Potete anche scegliere una tessera tecnologia avanzata invece di una di base e avanzare in un tracciato a scelta, ma dovete rispettare 3 requisiti. Essere a livello 4 o 5 del relativo tracciato. Avere già ottenuto una tessera federazione in precedenza e voltarla sul lato grigio. Infine, avere già una tessera tecnologia base da coprire con la tessera avanzata. Ogni volta che un giocatore colonizza un pianeta o migliora una struttura, tutti i giocatori che hanno almeno una struttura nel vicinato possono caricare potere. Si prende in considerazione solo la struttura di valore più alto che sia nel vicinato, e si può caricare tanto potere quanto il valore della struttura che è indicato in plancia, perdendo altrettanti punti vittoria meno uno. Ad esempio, se un avversario costruisce o migliora una struttura su questo pianeta, i Geoden possono, se vogliono, caricare tre potere, che è il valore dell'istituto planetario, perdendo due punti vittoria. Formare una federazione significa unire tra loro più pianeti da voi colonizzati e ottenere una tessera federazione. Potete formare quante federazioni volete durante la partita. Dovete scegliere un qualsiasi numero di pianeti che ospitano strutture per un valore complessivo di 7. Come vedete in plancia, le colonie minerarie hanno valore 1, le stazioni commerciali e i centri ricerca 2, le accademie e l'istituto planetario 3. Se i pianeti prescelti sono adiacenti si considerano già collegati. Se scegliete pianeti distanti, dovete collegarli costruendo satelliti, ovvero i cubetti del vostro colore, uno per ogni casella spazio che separa i pianeti. Si possono scegliere anche pianeti molto distanti, ma per ogni cubetto che posizionate dovete scartare definitivamente un segnalino potere. Siete sempre obbligati a scegliere il percorso più breve tra i pianeti che avete scelto e non potete connettere più strutture di quante sono necessarie per arrivare ad un minimo di valore 7. In ogni casella spazio ci possono essere satelliti di più giocatori. Dovete costruire tutti i satelliti che vi servono in un'unica azione. Per indicare quali strutture fanno parte della federazione, posizionate tessere registro sotto di esse. Se costruirete una struttura adiacente ad una appartenente ad una federazione, la federazione si allargerà. La nuova struttura non potrà far parte di una nuova federazione. Quando formate una federazione, prendete una tessera federazione a scelta, ottenete quanto descritto e tenetela accanto alla plancia dal lato verde. Vi servirà voltarla per ottenere una tessera tecnologia avanzata o per salire al livello 5 di un tracciato ricerca come vedremo. La tessera federazione che dà 12 punti è grigia dai due lati e non può servire a questi scopi. Avanzare in un'area ricerca significa pagare 4 punti conoscenza per ottenere un avanzamento in un tracciato a scelta. Per salire al livello 5 di un tracciato dovete avere una tessera federazione sul lato verde da girare. Solo un giocatore può salire al livello 5 di ogni tracciato. Salire al livello 3 permette anche di caricare 3 potere. Azioni potere e CIQ. In fondo alla plancia ricerca ci sono una serie di azioni da utilizzare spendendo potere o CIQ. Quando si sceglie di usare una di queste azioni la si copre con un segnalino ad indicare che nessun altro potrà utilizzarla in questo round. Spendere potere significa spostare tanti segnalini potere, quanto indicato, dall'area 3 all'area 1. Con le azioni potere ottenete conoscenza, crediti, minerali, nuovi segnalini potere o step di terraformazione. Usando quest'ultima azione praticamente svolgerete un'azione di colonizzazione non pagando il costo di uno o due step di terraformazione. Se sono necessari più step di quelli indicati potete pagare gli step in eccesso in minerali come al solito, prima di costruire la colonia mineraria. Con le azioni CIQ ottenete tessere tecnologia, punti vittoria in base ai pianeti colonizzati o potete riscuotere nuovamente i bonus di una delle vostre federazioni. Azioni speciali Sulle tessere tecnologia, sulle tessere bonus o sulla vostra plancia potete trovare delle icone ottagonali. Si tratta di azioni aggiuntive da svolgere come azione principale del vostro turno una volta per round. Dopo averle usate copritele con un segnalino. Sono disponibili solo per il giocatore che possiede quell'elemento. L'ultima azione possibile è passare. Il primo giocatore che passa perché non può o non vuole eseguire altre azioni mette il suo cubetto sullo spazio 1 del nuovo ordine di turno e giocherà per primo nel round successivo. Tutti gli altri faranno lo stesso quando passeranno. Quando si passa inoltre si restituisce la tessera bonus e se ne sceglie un'altra per il round successivo, da tenere per il momento a faccia in giù di fronte a sé. Oltre all'azione principale durante il vostro turno potete scegliere una o più azioni libere, che sono scartare potere dall'area 2 per trasferirne altrettanto all'area 3 o effettuare una delle conversioni indicate in plancia. Le tessere punteggio di round indicano quale azione dà punti nel round in corso. Se effettuate quanto descritto nel round in corso ottenete immediatamente la montare di punti indicato. Ad esempio con questa tessera, per ogni colonia mineraria piazzata su un pianeta in questo round ottenete due punti. Una volta che tutti i giocatori hanno passato c'è la fase di gestione, in cui si rimuovono tutti i segnali di azione sulle azioni usate. Si rimuove la tessera punteggio dei round relativa al round appena finito e si volta a faccia in su la tessera bonus scelta. Alla fine della fase azioni del sesto round termina la partita e si procede al conteggio dei punti finali. Si aggiorna il livello raggiunto da tutti i giocatori in base ai due obiettivi di fine partita. Se vi è più comodo potete tenerne traccia durante il gioco. Per ogni obiettivo il giocatore più avanzato ottiene 18 punti e il secondo 12 il terzo 6. In caso di parità si sommano i punti relativi alle posizioni occupate dagli spareggianti e si dividono equamente tra i giocatori in parità. Per ogni tre risorse rimaste tra crediti, conoscenza e minerali si ottiene un punto vittoria. Per ogni livello 3, 4 e 5 raggiunto sui tracciati ricerca si ottengono 4 punti. Ciò significa che se si è raggiunto il livello 5 di un tracciato si ottengono 4, 8, 12 punti. Chi ha più punti è il vincitore, in caso di parità i giocatori condividono la vittoria. Abbiamo chiesto agli autori di Progetto Gaia qualche consiglio su come affrontare il gioco, ecco cosa ci hanno detto. Non dimenticare le azioni CIQ. Solitamente è possibile fare buon uso delle tessere punteggi di round nei round dal 4 al 6. Con alcune fazioni è possibile ottenere una tessera tecnologia nella round 1, e questo è molto potente. Può essere ancora più potente usare CIQ per un'espansione precoce, ti danno un boost temporaneo di più 2 alla navigazione, fanne buon uso. Non spendere minerali per terraformare nel primo round, non è quasi mai una buona mossa. Usa piuttosto un'azione potere oppure un bonus di round per terraformare, o in alternativa investi nel miglioramento dei tuoi edifici. Cerca di costruire un centro ricerca nel primo round. Costruisci l'istituto planetario nel primo round solo se questo dà un beneficio alla tua economia. Beneficierai molto dei tracciati ricerca se comincia ad avanzare presto nel gioco. Una plancia tecnologie, ecco cosa mancava in terra mistica, geniale! Plastica! 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 Perché? Rigiochiamo, devo provarle tutte! Quindi su un pianeta transdim devo inviare un'unità Gaia-Forber, congelare dei segnalini potere nell'area potere Gaia, aspettare un turno, a quel punto inserire un segnalino Gaia sotto l'unità Gaia-Forber, scongelare i segnalini potere, poi ritirare l'unità Gaia-Forber e costruire una colonia mineraria. Credo che piuttosto sceglierò quel bel pianetino rosso tanto tranquillo. Insomma se avete una bella idea spremetela fino in fondo! Quindi ricapitolando posso costruire un'abitazione mineraria, un emporio commerciale, una fortezza planetaria oppure un tempio di ricerca o ancora un santuario accademico. Sto sbagliando qualcosa? Le differenze rispetto a terra mistica sono poche e chi conosce il regolamento originale non avrà difficoltà ad assimilare le regole di progetto Gaia. La difficoltà maggiore starà nel chiamare gli edifici e le azioni con i nomi nuovi e non con i nomi di terra mistica. Quello che cambia sono i materiali, si passa dal legno alla plastica, l'ambientazione, la sostituzione dei culti con i tracciati tecnologia e la novità dei progetti Gaia. Se i primi due spetti, materiali e ambientazione sono molto soggettivi, sugli ultimi due gli autori hanno lavorato molto per migliorare il gioco originale. I culti in terra mistica davano moltissimi punti ma erano un po' fine a se stessi. Qui i tracciati tecnologia danno sempre molti punti ma sono molto più integrati nel gioco, in quanto determinano il nostro livello su vari aspetti fondamentali, come la navigazione o la terraformazione, e danno un boost alle rendite non indifferente. Decidere su quale tracciato salire sarà una scelta molto più difficile e determinante per il gioco nel suo complesso. L'inserimento dei progetti Gaia non lo trovo così determinante, o meglio ci sono alcune fazioni che puntano molto su quello, gli obiettivi di round o di fine partita che spingono a realizzarne. Ma mi sono capitate anche partite in cui portare a termine un progetto Gaia dava pochi vantaggi se paragonato alla complicazione di questo tipo di colonizzazione. Essendoci pochi pianeti di questo tipo sulla mappa inoltre, capita di occuparli tutti in fretta e tornare presto alle classiche modalità di colonizzazione. Se avete visto il video dei miei 10 giochi preferiti, ve lo linko in alto e nella descrizione, saprete che Terra Mistica è il mio gioco preferito. Trattandosi essenzialmente dello stesso gioco ovviamente amo anche Progetto Gaia, ma se devo dare la mia personalissima opinione, l'ambientazione, le razze e i materiali di Terra Mistica mi piacevano di più. Come esperienza di gioco Progetto Gaia se possibile aggiunge ancora più profondità con i tracciati ricerca, ma forse complica inutilmente le cose con i progetti Gaia. Personalmente oserei dire che continuo a preferire Terra Mistica, ma sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi, scrivetemelo nei commenti. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi tutorial. Alla prossima e buon gioco!